Fine dei giochi. In manette i rapinatori delle sale slot. Alle prime luci dell'alba i carabinieri di Varese hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per otto persone. Quattro sono i componenti della gang già arrestati il 16 ottobre scorso nell'ambito dell'indagine Beverly. A loro si aggiungono altri due membri del gruppo criminale, il fratello maggiore del capo ed un pregiudicato di Garbagnate milanese, entrambi 35 anni e coinvolti in prima persona in altre tre rapine commesse alla sala slot planet di Bisuschio e ai danni di due esergenti di Garbagnate. La titolare del negozio oro in euro è il proprietario del bar factory caffè. Ai domiciliari invece i genitori del capo della banda con l'accusa di aver illecitamente detenuto ed occultato due pistole con matricola a brasa, un fucile da caccia e munizioni di vario calibro consegnate ad un vicino di casa. Per quanto riguarda le rapine si è accertato il coinvolgimento di due fratelli, uno dei quali è arrestato questa mattina relativamente ad una sola rapina, mentre invece l'altro che era già detenuto per quasi tutti gli altri episodi. Per quanto attiene invece i genitori che sono stati arrestati e accompagnati agli arresti domiciliari questa mattina, le ipotesi di reato nei loro confronti sono quella di detenzione di armi clandestine, di detenzione illecita di un'arma oggetto di furto. Evidentemente con le armi che sono state rinvenute nel corso dell'attività il gruppo criminale aveva chiaramente la possibilità di utilizzare delle armi vere, delle armi non tracciate e quindi era realmente molto pericoloso.